In diretta su Radio Fantasy, la radio a pezzi Sentiamo un po' Pronto? Ja Ja, chi è il nome? Ja, pronto? I'm George Clooney George Clooney! Ritornato alla radio a pezzi George Clooney, ma che piacere! Come va? Sono contento Si, parlo meno nasale se puoi Mi permetto di chiederti questo Ma ho pensato a un periodo di malaria Tu sai, no? Eh, lo so, lo so che hai contratto una malaria in Africa, mi ricordo Poi, dopo, sono rimo con Canelis Si Mi ha Elisabetta Si, si It's ok, benissimo Come hai curato questa malaria? Ma, io curo personale Ho capito, Elisabetta ha pensato lei, beh, giustamente Mio antidoto Eh, tuo antidoto 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 Ma come mai ci hai chiamato, George? Ma, io devo fare complimenti Sì Perchè, ehm... Il mio grande amico Chi? Matthew Matthew Coso Ah, l'amico giustamente di George Clooney Eh, Cobretti Ciao, George Ciao, hi Ciao, Brian Hey, in inglese pure It's ok, you Allora, come mai hai conosciuto Cobretti? Eravamo a fare presentazioni Si Con Ocean 12 Per un film con Steve Soderbergh Siete due teste di cazzo No, ma sono buono, stai buono Andiamo No, è una grande appresa in Italia Si Grande buffet Grande ricevimento E abbiamo fatto Grande assaggi di vini Ah, benissimo, benissimo Se bon al vino in cartone Che vino era, che vino era George, ti stai confondendo No, che vino era, diciamolo Tronco dei tassi Cobretti, George Clooney Grazie, George Ciao, George Ok, that's right See you soon Bye, bye Come era se bon al vino nel cartone